tutti noi abbiamo un enorme potenziale che aspetta solo di essere liberato ma devi iniziare ad ascoltarti cerca nel silenzio tutta la forza di cui hai bisogno è già lì ti devi liberare di ciò che è inutile delle tensioni e delle paure più profonde devi trovare il vuoto che ti riempie così potrai ritornare a casa ritrovare la tua natura lì ti ricorderai di avere una forza che non ha bisogno di tensioni tangibile e sempre presente nei gesti in ogni azione che compierai questo è un viaggio che ha bisogno di una strada chiara per essere intrapreso noi siamo di code